Il Presidente non manda il voto, quindi dobbiamo fare il governo. Ma ce la facciamo questa volta? Bisogna farlo per forza. Conte Premier? Questo non so in particolare. Però è semplice, o vai al voto o fai il governo. Al voto non si può andare, dobbiamo fare il governo. Quindi è sicuro. Grazie.